Fiii! Sieh, è stato ventana ma è che sta prendendo fuoco quella calderia! Nella mattina il metano ci dà una mano. Alla fine! Questa è necess writing XNN, ahahahahahahahahahahahahahahahahahahah. Seppon vi il posto. Pene seo il minimo altro! Fa facile? Fa sì. Fa sì. Fa sì. Fa sì. non è un po' il primo il primo il primo il primo non faccio vedere la cesta 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 non è finché non è facile c'è 4 a 4 e ha 4 a 4 le mani troppo non è facile e non è facile è un video Sì. Sì. Dio poverso. Sì. Un po' di educazione. Sì. 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 Come ti andiamo indietro? Mi fa sbagliare altro. Mi fa sbagliare altro. Sì. E' un po'んだ awo,Corou,Corou. E' un po' che dice. ... C'era io m'ultica dell'noi, Stanislavoli di lavoro, Salvai e Ministero Appreciate scora parare di elebre.